buongiorno a tutti e forza napoli da due news e gianmarco giuliano bellissima vittoria ieri contro lazio ma bellissima serata una di quelle serate che un tifoso del napoli non dovrebbe mai perdersi una di quelle serate che unisce la storia al presente e si spera anche al futuro ancora una volta nel nome del più grande diego armando maradona ieri c'è stata una ancora una seconda statua che è stata scoperta all'interno del san paolo con 50.000 persone che illuminavano con la luce dei telefonini l'atmosfera e con le luci del san paolo finalmente degne del 2021 che creavano delle immagini anche di diego sul prato del san paolo un momento davvero emozionante e giusto e la giusta dedica per il più grande di tutti i tempi diego armando maradona prima di parlare della partita rapidamente che poi è una partita vinta in questa maniera c'è veramente poco da dire con tutti i dati statistici a favore con una prestazione sontuosa io volevo dire una cosa che ieri ho visto finalmente una società calcio napoli un calcio napoli quindi finalmente sembrava di un livello superiore spesso quando si vede il real madrid quando si vedono altre partite ma a volte anche stesso la juventus o l'inter quando si vedono le tribune piene di autorità piene di persone importanti artisti sembra di vedere squadre di alto livello noi invece a volte chiusi non lo so forse in quello che il limite anche caratteriale del presidente de l'orentis che gestisce benissimo la società lunga vita al presidente ma da questo punto di vista forse non è lungimirante ieri invece c'era la presenza forse la presenza di ferlaino c'era la presenza di ex calciatori del passato del napoli mai tenuti troppo in considerazione da questa società c'era giordano c'era bruscolotti c'era bagni in questi giorni a napoli c'era la lettera di maurizio de giovanni che ha emozionato prima all'inizio della partita c'erano artisti come siani come nino d'angelo come gigi d'alessio c'era napoli c'erano i 50.000 del san paolo e c'era maradona con la sua statua c'è finalmente la città era unita tutta unita dalle autorità dalla società dal pubblico e dalla squadra in campo che ha dato poi uno spettacolo incredibile in passato c'era riuscito una sola persona a fare questo c'era di unire istituzioni società e pubblico e questa persona era diego armando maradona che gli era fatto l'ennesimo miracolo a riunire la città i tifosi le istituzioni e le persone più in alto della città tra l'altro anche lo stesso sorrentino si può dire che con i suoi titoli dalla grande bellezza ieri c'era l'ex sarri alla mano di dios l'ultimo suo film era tutta la città ad essere finalmente unita napoli così vince napoli così ha vinto in passato e napoli ieri ha vinto portantosi a tre punti di vantaggio sul milano e a quattro dall'inter con così con questa maniera questa città vince una città che è sempre divisa divisa legalmente dalla camorra divisa legalmente sulla voglia di seguire o non seguire le leggi divisa a volte dal volta dall'ignoranza perché non c'è la possibilità di mantenere le migliori menti in questa città siamo sempre divisi ma quando siamo uniti vinciamo e il calcio lo dimostra e maradona lo dimostra che diventi di esempio la giornata di ieri e il passato perché abbiamo vinto e lo possiamo continuare a fare questo era quello che volevo dire perché appunto dio armando maradona è riuscito in quest'altra impresa con una statua questa volta c'è riuscito un'altra volta contro l'ex sarra in napoli appunto ha lasciato la è ritornato alla grande bellezza e con la mano di dio sta vinto una partita incredibile ieri mertens sembrava maradona soprattutto nei suoi due gol che ha fatto veramente stupendi abbiamo scoperto forse per la prima volta un grande lobotica ci si era preoccupati dell'assenza di usi men e di anghissà ecco qua mertens e lobotica in poche parole le prima lì c'è il campionato diciamo il napoli può funzionare se funzionano simen se funziona ghissà adesso non funzionato me adesso devono funzionare mertens demme lobotica devono ritornare a funzionare in signe lo zano ieri ha funzionato tutta la squadra ma non pensiamo naturalmente che i problemi siano finiti perché ci saranno forse la lazio ieri è stata poca cosa in campo vedremo nelle prossime partite ma certo la velocità nel gioco quello che ho detto negli ultimi negli ultimi video cioè di non perdere il tempo di gioco ieri si è visto un tocco due via la palla al giocatore più libero la difesa avversaria ha perso totalmente il sistema di gioco e ci infilavamo da tutte le parti con molta fiducia con molta sicurezza e un'altra cosa che ho visto praticamente è stata il rispetto per l'avversario non siamo andati in campo con quella supponenza con quella sicurezza di poter dominare la partita non abbiamo avuto anche paura dell'avversario ma non è paura il rispetto e il rispetto per l'avversario ti porta a dare di più in campo questo era ieri il napoli una bellissima squadra con un ottimo allenatore in campo che a fine partita ha applaudito il gioco ha applaudito i calciatori ha applaudito soprattutto il pubblico ha detto per la prima volta ho visto il san paolo che conosco manteniamo quest'unità manteniamo questa bellezza del gioco e ricordiamoci dell'esempio di maradona perché il passato può aiutare ad essere migliori nel presente e fiduciosi verso il futuro adesso ci saranno sassuolo e atalanta altri due banchi di prove importanti nel frattempo il napoli ha tre punti di vantaggio sul milan e dati che finalmente ritornano a sorridere con questo e con sempre un saluto a diego maradona che sembra ci voglia aiutare dall'alto forza napoli sempre da parte di due news e gianmarco giuliano buona giornata a tutti